Ciao ragazzi e ragazzi, eccoci finalmente arrivati con un nuovissimo video. Oggi video un po' polemicoso e video è live in questo caso, ma volevo parlarne qua in live insieme a voi, dato che ci sono stati e ci saranno, spero, dei commenti in live, così in cose che io ho perso, cose che io non so e soprattutto opinioni diverse, possiamo parlarne insieme e sapere tutto. Io oggi voglio parlare insieme a voi dell'aggressione che è diventata super virale da parte della polizia contro questa ragazza trans. Allora, partiamo dall'inizio. Cosa è successo? Nel caso in cui dovessi dire qualcosa di sbagliato o dovessi dimenticarmi qualcosa, perché io un po' ho letto però, non è che sono dio sceso in terra, che so tutto, quindi voi nei commenti scrivetemi e aggiornatemi in tempo reale. Allora, ieri io l'ho visto innanzitutto su Twitter, poi è andato virale ovunque, è stato ripreso anche da tantissimi giornali, una persona che abitava in un palazzo, dalla finestra ha registrato con il suo telefono un video, che io vi dico, io ho visto quello senza le censure, quindi si vedeva sia i volti sia tutto, ho fatto fatica a vederlo tutto, vi devo dire la verità, e in questo video c'era una donna stesa in terra, che aveva le mani alzate, che veniva presa a calci in faccia, manganellate qua, sui fianchi e anche in testa, spray al peperoncino in faccia, da non uno, da non due, ma da ben tre poliziotti, che tutti ci tengono nel dire che non era polizia di stato, ma era polizia locale, ma poco cambia ragazzi, polizia di stato, carabinieri, polizia locale, guardie della sicurezza, cambia po', è il gesto ragazzi. Allora, in questo video si vede appunto questa donna con le mani alzate, quindi penso che le mani alzate in tutto il mondo significa mi arrendo, fatemi quello che dovete fare, prendetemi, portatevi via, ammanettatemi, ma mi arrendo. C'è questa donna così e nonostante sia in terra, sia in modalità di arresa, ci sono questi tre che a turno le danno le manganellate, gli spruzzano lo spray al peperoncino nel viso, gli danno calci, gli danno botte, così alla fine la prendano, ok? Allora, questo video ovviamente è diventato super virale perché tutti giustamente se la sono presa con i poliziotti in questione che hanno detto ma scusate ma a parte che sembra una scena di un film americano o sembra una scena presa in America perché in America, come ben sapete, i poliziotti molto spesso hanno questo atteggiamento aggressivo soprattutto verso le persone nere, no? E molti infatti super indignati hanno ricondiviso questo video chiedendo anche spiegazioni alla polizia dicendo ma vi sembra un comportamento assurdo? Oppure vi sembra un comportamento normale? Non mi sembra normale picchiare in questo modo una donna soprattutto che siate in tre. Allora, che è successo? Il video ovviamente condivisione dopo condivisione è diventato virale, è stato ripreso da più persone, è stato ripreso anche da tantissimi giornali online tant'è che sono iniziati ad uscire i primi gossip, li chiamo gossip, poi saprete il perché. In molti hanno iniziato a dire, eh ma scusate ma dovete giustificare anche i poliziotti perché noi non sappiamo cos'è successo prima Cos'è che hanno portato queste autorità a comportarsi in questo modo? Evidentemente quella donna aveva fatto qualcosa di sbagliato Poi vi dico cosa penso, eh, su queste cose. Fatto sta che ovviamente non sono mancate poi le altre notizie Infatti appena qualcuno ha iniziato a dubitare, no, dell'autorità dei poliziotti oppure hanno iniziato a dire ma i poliziotti non devono fare così soprattutto contro una donna O soprattutto puoi aver fatto quello che vuoi ma non ti, non ti devi accanire in questo modo verso una persona Soprattutto, vi ricordo, se ha, se si arrende e ha le mani alzate Poi non sembrava nel video che avesse fatto chissà che cosa Però comunque era l'ultima parte di tutto quello che è successo Quindi cos'è successo ragazzi? Hanno iniziato a dire tutti che innanzitutto ci tenevano a specificare che quella non era una donna ma era un trans brasiliano Scrivono un anche in modo discriminatorio ragazzi perché se è un uomo che diventa una donna non si dice un trans ma si dice una trans Quindi, se addirittura molti dei giornali italiani, no, testate nazionali sbagliano una cosa del genere che per molti può sembrare una cosa di poco conto ma in realtà no, perché così stai discriminando E soprattutto, come mai hai dovuto per forza rimarcare il fatto che non era una donna era un trans brasiliano dicendo anche comunque la sua provenienza o rimarcando il fatto che non era una donna biologica Boh, mi è sembrata un po' una cosa che non serviva a niente, ok? Era una cosa in più Però, va bene Ci sta, è uscita la notizia Magari uno dice, vabbè, le generalità uno le dice in qualsiasi modo In questo caso si trattava di una donna trans di origini brasiliane e quindi va detto perché i giornalisti lo devono dire Va bene, ci può anche stare Fatto sta che le prime notizie per salvaguardare un po' la faccia di questi poliziotti dicono che i poliziotti si sono accaniti in questo modo verso la donna perché la donna era stata vista in un parco e poi vi dirò anche quale parco era frequentato da bambini frequentato da una scuola per bambini non so se era un asilo o comunque una scuola elementare e questa persona era in comportamenti super inadeguati rispetto al luogo in cui era perché mostrava i genitali mostrava le sue parti intime ai bambini e quindi diciamo che è un, come si dice, una sorta di abuso, no? E quindi i genitori, alcuni dei genitori vedendo l'accaduto vedendo che questa era anche particolarmente alterata probabilmente drogata o probabilmente, insomma, non ci stava con la testa dicono che hanno chiamato la polizia hanno chiamato le autorità e quindi le autorità sono andati sul posto l'hanno prelevata e questa qui, quando sono arrivati i poliziotti vi ricordo che vi sto raccontando le prime notizie che sono uscite diciamo che, allora, innanzitutto scrivono che si è finta svenuta più volte dicono che abbia tirato un calcio sul petto a uno dei poliziotti dicono che questi poliziotti non riuscivano a trattenerla perché questa era impazzita e li stava aggredendo era riuscita anche poi a scappare e quindi si arriva poi al video che è stato registrato quella era, diciamo, l'azione finale dopo tutto quello che avevano subito loro allora se anche fosse vero tutto questo cioè, non giustifica il fatto che hai usato tutta questa violenza ok? verso questa donna però il problema è che queste notizie a quanto pare sono fake non sono vere e il problema è che queste notizie che sono state date ora ve lo dico, eh ve lo dico le notizie così sono state date dall'assessore dell'assessore alla sicurezza del comune di Milano che si chiama Marco Granelli sono delle fake news ok? perché vi dico io? Fanpage ragazzi e ragazzi è andata ovviamente sul luogo nel luogo del misfatto e non vi sto parlando del luogo dove il video è stato registrato ma vi sto parlando di questo parco che è Parco Trotter qui a Milano che diciamo che non è in una zona molto bellina nel senso se voi siete di Milano sapete già che lì non ci dovete andare soprattutto di notte perché ci sono delle persone un po' poco raccomandabili fatto sta che Fanpage è andata in questo posto è andato appunto dove c'era questa scuola e ha fatto delle domande ai genitori dei bambini che frequentano questa scuola il problema ragazzi è che nessuno dei genitori e nessuno dei lavoratori nella scuola nemmeno il preside hanno mai menzionato il fatto che c'era questa persona che faceva vedere le proprie parti intime ai bambini che nessuno abbia visto oppure chi ha visto non è stato intervistato casualmente da Fanpage ma ragazzi siamo nel 2023 chi ha dei bambini sa che ci sono le chat di Whatsapp dei genitori una cosa grave in questo modo che succede nella scuola di vostro figlio non esce anche se te non hai visto questa cosa qualcuno ci sarà perché qualcuno l'ha chiamati i carabinieri l'ha chiamata la polizia che vuoi che questo scoop tra virgolette non diventa virale nelle chat delle famiglie boh mi sembra strano il fatto ragazzi vi leggo alcune delle cose che hanno detto i familiari che sono stati contattati su Fanpage quando ho accompagnato mia figlia a scuola ho visto l'auto dei vigili e l'ambulanza e ho sentito parlare del fatto che fosse stata fermata una persona transessuale ma prima non avevo notato nessun pericolo e anche le altre mamme non mi hanno riferito di nessuna molestia oppure ho visto polizia locale e ambulanza mi hanno detto che c'è stata una rissa ma non ho altre informazioni ripeto è possibile che anche se tu non abbia visto nulla nessuno di quelli che ha visto ha scritto nulla nel gruppo di Whatsapp o non ti abbia riferito la cosa che comunque è in una scuola dove c'è il tuo figlio mi sembra strano fatto sta ragazzi e ragazzi che come se non bastasse ieri sera persino in televisione a chi l'ha visto hanno smentito questa notizia hanno smentito la notizia che questa persona avesse tirato su le sue cose, le sue gioie per farle vedere ai bambini ma anzi probabilmente è stata chiamata la polizia perché faceva degli schiamazzi insomma faceva casino perché la donna aveva insomma la psiche alterata secondo me era un po' droghe ok quindi era in un momento un po' così di alterazione e faceva casino e quindi le persone siccome avrei fatto anch'io di chiamare la polizia c'è una che o uno o chiunque fa casino vicino a scuola del mio figlio la chiamo la polizia perché non vorrei il fatto però è che tutta questa roba cozza con quello che è uscito fuori e soprattutto uno dice ma se anche fosse stato vero c'è bisogno di prendere la manganellata in questo modo? soprattutto se anche fosse vero che la donna con i calci con i finti svenimenti fosse riuscita a scappare eravate in tre poliziotti tre uomini non riescono a mettere le manette a una donna che ha anche il cervello alterato in quel momento quindi chissà quanta potenza poteva avere nel corpo nel fisico non riuscite ad ammanettare una persona? quindi ci sono 800 miliardi di polemiche perché ovviamente non solo ora abbiamo il video in cui c'è questa violenza inaudita da parte delle forze dell'ordine ma in più c'è anche la falsa testimonianza perché hanno le persone che comunque non è che sono persone comuni hanno detto hanno raccontato una storia assurda una storia falsa e addirittura c'è chi ha raccontato che la polizia si è rivolta in quel modo verso questa donna perché la donna urlava di avere e quindi diceva che la voleva dare la voleva trasmettere ai bambini del luogo ora io dico non solo non può essere vera una cosa del genere ma qui c'è anche tutta l'ignoranza del caso perché da che mondo è mondo o qualsiasi malattie di trasmissibili si trasmettono facendo vedere le parti intime o metti caso toccando un bambino cioè stai mandando non solo delle notizie sbagliate in tutta Italia ma stai anche aumentando il preconcetto che innanzitutto le donne trans siano tutte malate o siano tutte in questo modo e fai mandare anche il messaggio che quindi donna trans facente parte della comunità lgbtq plus e quindi omosessuale non solo tutti gli omosessuali sono malati ma che sono anche non so se posso dire questa parola perché stava un po' dei bambini quindi capite dov'è la gravità della cosa io non voglio dire che con questo governo le persone si sentono in dovere di fare determinate cose di comportarsi in determinati modi o di poter picchiare qualsiasi persona così a proprio piacimento non lo voglio pensare però non voglio neanche giustificare una cattiveria del genere in questo modo perché ragazzi questo abuso di potere io non ci voglio credere che tre uomini non siano riusciti a fermare a bloccare una donna non ci credo e poi tutto quello che è uscito dopo per screditare la donna perché succede sempre così che se è rivelato falso avete fatto una figura barbina ve lo posso dire e poi vi posso dire anche un'altra cosa dato che ci siamo perché con questa notizia è ovviamente aumentata la come si dice la la questione di Milano che Milano non è sicura che Milano è diventato il Bronx che Milano è gestita malissimo e che ci sono tutte queste persone che fanno i cavoli sua ora io ho già fatto un video ve ne ho parlato della situazione di Milano della pericolosità di Milano e tutto quanto ma se per fermare una donna che urlava o che comunque era ubriaca di mattina ci sono voluti tre poliziotti e poi nelle zone un po' più calde dove succedono risse dove ci sono le persone che ti accogliano per una collanina dove ci sono le persone che non vedi anima viva mi viene un po' da pensare che state usando il vostro potere come guardie come non lo so poliziotti un po' male cioè secondo me non servivano tre persone per una persona e basta ma servono molte più persone verso quelle zone un po' più diciamo zone calde andate a parco trotter di notte ma andateci in squadroni la donna ha esagerato io non lo metto in dubbio perché comunque cioè ti devi comportare bene e se non ti comporti bene come giusto che sia ti arrestano ok però non mi sembra normale non mi sembra giusto tutta questa violenza nel senso ora dico una popular opinion io a volte o molto spesso sono dell'idea che una manganellata ogni tanto ci può anche stare se proprio te sei una scheggia impazzita e non riusciamo a tenerti buono ma cavolo ma nel video si vede la donna si era arresa c'era le mani alzate era ferma immobile in terra che bisogno c'era di manganelli di calci di pugni di spray al peperoncino mi sembra un po' strano e mi sembra appunto un abuso di potere dato perché ora sono tutti contenti perché il governo ti lascia passare queste cose non lo so anche perché quando uscì la notizia nelle prime ore ragazzi molte persone erano dalla parte loro perché dicevano sì ma i bambini non si toccano ha fatto una cosa bruttissima e quindi hanno fatto bene ma a parte che poi si è rivelata fake questa notizia e l'abbiamo già detto ma nelle solite ore ragazzi ora io spero di ritrovare la notizia aspettate che ve la trovo eccola nelle solite ore è uscita questa notizia l'ex responsabile nazionale di azione cattolica è stato arrestato per violenze sui minori secondo voi questa persona è stata manganellata prima di essere arrestato non penso secondo voi i commenti sono stati la polizia doveva manganellarlo tutto quanto per quello che ha fatto no e allora io mi dico non è che c'è stata un po' di transfobia per tutto boh mi sembra un po' strano e quindi io vi voglio chiedere a voi voglio usare questa live appunto ora che vi ho raccontato tutto quello che so e cosa ne penso bene o male voi cosa ne pensate hanno fatto bene è sembrato strano anche a voi questo comportamento oppure è successo qualcosa che io non ho raccontato che voi sapete dire che Milano non è il Bronx è solo un modo di aggiungere il razzismo alla transfobia bruttissimo sì anche il sindaco che continua a far finta di nulla a far finta che Milano sia la città più bella e sicura del mondo a me fa un po' ridere questa roba io gli farei fare una passeggiata di notte da solo in giro per Milano e non nelle zone belle Manganelli violenza ingiustificata che periodo storico vi ricorda? appunto appunto e soprattutto notizie fake per fare in modo di farli passare bene cioè capite? io non penso che quando hanno sono andati ad arrestare il boss che era ricercato da anni l'abbiano picchiato anzi secondo me gli hanno fatto anche complimenti perché come ha fatto a scappare 30 anni bravissimo che poi era lì a casa sua cioè capite che c'è qualcosa che non torna qui non so se ti fai mai un giro sui social dei vari TG che scrivono le notizie sotto i commenti sono di un razzismo sessismo omofobia da far rapprivedire è quello è quello ragazzi perché se fosse stata una donna biologica bianca secondo me i commenti sarebbero stati un po' diversi cadranno teste stavolta purtroppo la violenza nelle forze armate è una roba che non si può più sentire ma io ho sentito che loro sono stati spostati mi sembra non lo so però mi sembra che al momento sono ancora in servizio quindi non lo so e soprattutto tutti quei politici che fanno a gara su twitter a scrivere sempre indignazioni dove sono adesso non hanno scritto niente perché perché non dobbiamo toccare le vostre forze dell'ordine ma quando sbaglio allora io sono assolutissimamente per il rispetto delle forze dell'ordine senza di loro non si potrebbe vivere ovviamente in pace però quando sbagliano ragazzi bisogna anche dirlo non è che sono una casta che è intoccabile se c'è qualcuno che sbaglia bisogna che paghi allora chiaramente la polizia ha sbagliato a mettere in atto misure così coercitive non ce n'era bisogno e non è scusabile il problema di Milano comunque è proprio il sindaco le forze dell'ordine nelle zone di fuoco non possono intervenire perché il sindaco ha i citrioli sugli occhi e non permette di agire senza che poi dalla parte del torto ci passino le forze dell'ordine ora vi posso dire una cosa che è ancora più un popular opinion io potevo capire se il video in questione che abbiamo visto era delle forze dell'ordine contro tutta quella orda di persone che invadono stazione centrale di notte che loro sono pericolosi io se avessi visto un video delle forze dell'ordine che picchiavano in questo modo quel gruppo di ragazzi che ci sono tutto il giorno ma soprattutto di notte in stazione centrale lì potrei anche chiudere un occhio e dire vabbè so com'è la situazione hanno fatto bene però no non è successo questo e questo non succede ragazzi perché lì non c'è nessuno si vedano c'è persino l'esercito davanti la stazione centrale ma basta girare l'angolino e ci sono persone che taccano niente e loro che vuoi che non lo sanno ma chiudono l'occhio e fanno finta di nulla cioè se noi non si vede ti dicono solo non andare lì non andare in quelle zone non possono agire in zone come la stazione centrale perché sono più in pericolo loro che gli abusivi sì se vanno in tre ma se fanno gli squadroni grossi come quando vanno contro giustamente a come si ama quelli che gli garba il calcio che fanno casino nella città se mettono le squadre antisommossa vuoi vedere che in un giorno spariscono queste persone l'esercito è fatto per tenere l'ordine non possono agire sì ho capito ma se non puoi agire e poi io nell'angolo di là muoio accogliato per una catena d'oro mi fa ride allora Bruna la donna picchiata ha dichiarato che aveva le braccia alzate e chiedeva di non essere picchiata invece l'hanno colpita in testa e sui fianchi in auto hanno continuato con gli insulti e vorrei sapere che tipo di insulti perché da lì si capisce molte cose capite non lo so però questa situazione mi sembra un po' imbarazzante ve lo posso dire cioè in questo preciso video in questa precisa situazione io non posso dire hanno fatto bene non posso neanche giustificarli perché non c'era modo di picchiare in questo modo una donna brava mi fa solo tristezza e non riesco neanche a capire come mai tant'è che in tanti mi avete anche scritto su instagram ma cristiano ma è sicuro partecipare al pride sapendo che comunque si picchiano così o non niente io vi dico ma io spero che non si arrivi a questa roba raga il pride è una manifestazione d'amore di gioia di divertimento e di felicità se ci sono delle guardie o della polizia o qualsiasi roba così penso che ci siano per mantenere l'ordine non penso che vengano apposta per picchiacci perché siamo un po' così gaiosi non voglio pensare che siamo arrivati a questo punto quindi non c'è problemi a me dispiace davvero dire che l'Italia è un paese di M per quanto riguarda queste cose perché comunque ci sono nate e cresciute ma purtroppo proprio è un paese di M non è normale che ancora nel 2023 succedano queste cose non è normale no ma sono sbagliate anche le leggi perché qui si ritorna a parlare delle leggi perché sono le leggi sono sbagliate raga perché se io ti arresto e poi il giorno dopo esci di galera per varie cose oppure voi che mi avete detto che possono mantenere l'ordine ma non possono agire è sbagliato quello io non dico che da un picchi a chiunque ma anche noi cittadini normali cioè non normali giusti non possiamo neanche usci di asa ogni volta con l'ansia con la paura che ci accortellano che ci derubino non si può vivere così eh dai allora da figlia di un maresciallo posso dire che non sia così semplice per loro agire il fatto è che per esempio in situazione centrale le persone abusive sono sempre pronte con il telefono a registrare ogni minimo atto dell'esercito per cui va a finire sempre che passino le forze dell'ordine dalla parte del torto sì ma quel caso secondo me sarebbero giustificabili perché tutti sappiamo che situazione c'è in stazione centrale dai l'altra settimana non vi è una ragazza dentro un ascensore o quello che ha 5 persone per le catenine d'oro cioè boh no no io non voglio no 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 non voglio generalizzare io non dico che tutti i poliziotti così anzi anzi ho detto per me i poliziotti le forze dell'ordine fanno il loro lavoro devono farlo e io sarò grato per sempre perché io la sera appena vedo una pattuglia è come se gli andassi incontro perché mi sento più al sicuro però al tempo stesso quando qualcuno di loro sbaglia va detto non è che sono intoccabili e sono d'accordo con voi nel dire che il problema non sono neanche tanto loro ma è lo stato ci sono le leggi sbagliate io non voglio giustificare la violenza e non voglio assolutissimamente però se io forza dell'ordine non posso nemmeno arrestare uno perché tanto non hai documenti o tanto boh è incinta lo legittimo a fa quello che gli pare è normale che poi uno se ne approfitta se non mi fai niente però lì non c'entrano le forze dell'ordine lì c'entra lo stato c'entrano le leggi vanno cambiate le leggi mi dispiace ma stai facendo un po' di confusione la violenza è sbagliata ci ricordiamo del caso cucchi e lì non c'era questo governo il problema sono le caste nelle forze dell'ordine il problema è che il nostro codice di procedura civile ah no voleva dire penale non viene aggiornato da oltre 60 anni allora comunque forse i poliziotti hanno agito sbagliando ovviamente i modi perché hanno visto in lei visibilmente alterata e con precedenti un pericolo essendo davanti a una scuola con bambini piccoli sì ma era una donna contro tre c'era bisogno di picchiarla in questo modo la strattoni e la butti in terra dal momento che l'è in terra con le mani alzate e la manetti è ammanettata cosa ti può fa mai no non c'è giustificazione in questo allora ho visto il video di un ragazzo dell'est completamente ubriaco che minacciava ed era molto irruente ma in questo caso i poliziotti si sono comportati in modo anche troppo gentile e calmo sì è normale allora però qui si va in un punto se a me io forza dell'ordine ci sei te che mi minacci magari con un'arma o con un coltello lì non so quanto starei calmo a dire no per favore posa il coltello lì ti venga addosso però in questo caso la donna alterata quanto vi pare era non aveva armi era disarmata era in terra non mi sento di dire bravi anzi mi sento di dire oh qui c'è qualcosa che non va non lo so boh io non so che pensare però quel video mi ha scosso no per il momento no non li hanno sospesi boh boh ma anche solo ora lasciamo perdere un attimo i poliziotti ma anche solo il fatto che sono diventate super virali le fake news su di lei per giustificare il loro comportamento e queste fake news vengano anche da giornali comunque nazionali o da persone che comandano non mi sembra una cosa normale di uno stato civile perché a volte io penso io la seguo la pagina Milano Bella D'Addio e molte volte pubblicano dei video di persone che fanno un casino ma picchiano menano distruggono auto robe così e lì a me mi ci viene anche da pensarlo ma la polizia dove è? oppure ma du belle manate in ermuso se le merita mi viene da pensarlo a volte perché è brutto da dire ma a volte la violenza chiama violenza nel senso se te non fai a modo e vieni ripreso vieni ripreso ma uno ha anche paura per la sua incolumità però in questo caso che che paura ti può fa una donna che urla non lo so boh magari c'è qualcosa che non sappiamo però mi è sembrata un po' una violenza ingiustificata diciamo così in questo caso boh ah e soprattutto aspetta aspetta ma una cosa come facevano poliziotte a sapere che la donna fosse trans vabbè ragazzi questo è un luogo comune e sicuramente verrò cancellato per questo ma molte volte si vede o magari gli hanno chiesto documenti hanno visto o magari gliel'ha detto anche lei però comunque il video io vorrei darvi questa informazione il video che è stato registrato e che è andato virale il luogo in cui erano era sette chilometri lontano dal parco quindi questi sette chilometri come l'hanno fatti ho sentito che è pure scappata dalla questura sì ma questo allora scusate è un genio è lupen dentro una questura addirittura pieno di poliziotti come fai a scappare sei un genio come fai è impossibile o sono tocchi quei poliziotti ma dai è impossibile una volta che sei dentro una questura come fai boh vabbè potrebbe anche essere una fake news da su tutte quelle fake che sono uscite però il fatto che il video in questione è stato registrato sette chilometri di distanza dal parco dove dovrebbe essere successo questo casino mi fa pensare com'è riuscita a scappare dalla macchina comunque vabbè anche se è scappata tutte quelle manganellate boh non è che sono tanto giustificate non lo so ho paurissima di dare giudizi affrettati proprio a causa di tutte queste fake news per ora posso solo dire che il video mi ha fatto rabbrividire la situazione strana è quello sì penso che questo sia un pensiero comune no spero di tutti noi non lo so c'è da saperne di più in realtà perché anche mettendomi nei panni di loro no delle forze dell'ordine cosa deve essere successo per scatenare tutta quell'ira tutta quell'odio tutta quella brama di picchiarti in quel modo deve essere successo qualcosa di grave perché se no una persona comunque col cervello che ci sta non è che scatta in quel modo però dall'altra parte dalle notizie che sono uscite non fake lei ok era vicino a un parco a una scuola per bambini urlava era alterata mentalmente ma a me se uno murla o si agita non è che mi dà l'idea la picchio ammazzo di botte no quella è una fake news l'ins quello di infettare le persone ne ho parlato prima è una fake news e poi non si infetta la gente così a caso cioè serve una cosa un po' più diciamo addentrata ok sono anche vigili urbani che secondo me non sono preparati a queste situazioni non sei preparato chiami la polizia di stato allora io non so cosa pensare volevo parlarne con voi perché guardando quel video sono rimasto un attimo scioccato e questo mi ha fatto pensare in queste ore boh quando è giustificata questa violenza da parte delle forze dell'ordine e quando invece è un abuso di potere così perché io non mi sento in generale di dire boh non vanno mai picchiate le persone perché ci sono dei contesti dove qualche manganellata fa anche bene ma d'altra parte dico da dare qualche manganellata per mettere in chiaro la situazione a abusare in questo modo della propria posizione il passo è breve insomma e quindi ho paura anche io a dare dei giudizi affrettati no perché se da una parte penso boh fanno bene dall'altra dico no è impossibile non puoi in qualsiasi cosa uno abbia fatto non puoi ammazzare di botte una persona in questo modo però d'altra parte ancora dico io ho paura di asa di tutte queste persone che sono cattive che sono strane ci vorrebbe un po' più di pugno duro ma dall'altra parte ancora dico ma da questo pugno duro al pugno duro con tutti anche chi non c'entra nulla anche chi non ha fatto nulla anche chi magari boh ha mandato a fanculo qualcuno il passo è breve quindi mi sa mi sa un po' boh è una situazione strana raga fatemi sapere voi cosa ne pensate